Adesso spiego perché la diretta tra me, Michele e Boldrin non è andata bene. Il motivo è l'impostazione della discussione. Infatti, fare tante domande per avere dei chiarimenti sui concetti, le definizioni, i significati che riguardano queste tesi, poi non permette di poter dare risposte semplici, chiare e al contempo precise e puntuali. Perché i contenuti e i concetti affermati da queste tesi sono complessi. Queste tesi sono le più articolate, complesse e rigorose che esistono non solo in filosofia, ma all'interno dell'intero panorama del pensiero umano. E mettono in dubbio, in discussione, l'intera rappresentazione comune e nichilista della realtà, del mondo, dell'esistenza. E quindi non è possibile poi sviluppare attraverso la struttura di quella discussione, attraverso quella impostazione, un discorso lineare, chiaro, e sviluppare degli argomenti che siano articolati secondo diversi passaggi logici. Non è possibile. Per dibattere adeguatamente su queste tesi e stabilire se siano plausibili, corrette, attendibili, perché no bere, o che siano delle sciocchezze, occorre entrare nel merito degli argomenti, occorre entrare nel merito delle argomentazioni che stanno alla base, al fondamento della struttura originaria e che fanno in realtà parte di essa. Perché le conclusioni e i concetti che sono affermati in quelle tesi hanno senso e significato solo in rapporto a quella struttura. Grazie.